Ehi là, bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, dove parliamo di narrazioni dark e immaginifiche. Una settimana fa c'è stato Strani Mondi 2022, la fiera dell'editoria specializzata nel fantastico. Fantascienza, fantasy, horror, weird, un po' di tutto. E io ci sono stato. Ho voluto lasciar sedimentare le emozioni, le riflessioni, prima di raccontarvela dal mio punto di vista. Naturalmente dopo la sigla di Broken Stories. Eccoci. Strani Mondi 2022. Questo video è poi il mio reportage da un punto di vista assolutamente personale, che non vuole quindi essere esaustivo, ma soltanto darvi il mio punto di vista, la mia prospettiva su questo evento, al quale partecipo solo poi per la seconda volta. Vi mostrerò dei libri in questo video e specifico subito che non li recensirò. È soltanto una rassegna di quello che io mi sono portato a casa, il mio bottino. Però se qualcosa voi voleste comprare, vi metto i link a ogni pubblicazione qui sotto. Se li comprate da questi link su Amazon, io ci guadagno una piccola cifra. C'è anche un'altra possibilità per sostenere questo canale, che è il super grazie, il tasto qui sotto, che vi permette di fare una piccola donazione. Come volete. Allora, veniamo a noi. Strani Mondi 2022. Innanzitutto devo dirvi che è stato un po' un weekend per me di vacanza, ok? Non di lavoro. Non sono andato lì con nessuna intenzione di creare e stabilire contatti, di portare broken stories all'attenzione o la mia attività di scrittore. Tantomeno di ghostwriter, intendiamoci. No, volevo semplicemente essere lì come lettore, come appassionato e divertirmi e vedere persone. Questo è un periodo un po' complicato della mia vita, quindi uscire di casa, vedere della gente, mi ha fatto solo bene. Come ci sono andato? In macchina, perché io abito vicino a Torino e dovevo solo arrivare a Milano. Questa è un po' la fortuna di chi abita vicino a Milano o a Milano, perché lì succede un po' tutto, anche se il Salone del Libro di Torino, quello internazionale, è appunto nella mia città. In ogni caso, ci sono andato con due amici, che sono anche scrittori. Diciamo che il fil rouge di tutto l'evento, per quanto mi riguarda, è stato questo, l'amicizia con degli scrittori. Bene o male, questa ormai è la mia tribù. Gli scrittori, ma anche naturalmente i lettori. E quindi voi, sostanzialmente. Ci sono andato quindi con Flavia Imperi e Beppe Roncari, che sono autori, sono amici e abitano pure, da un anno a questa parte, a una mezz'oretta da casa mia. Quindi sono persone che amo frequentare. Se vi chiedete chi siano, vi posso solo dire che entrambi hanno in corso, diciamo, hanno firmato dei contratti editoriali. Di entrambi vedremo i romanzi in futuro, ma entrambi sono anche autori già affermati. Hanno scritto, per esempio, un romanzo nella saga Mondadori dei Sette Re di Roma. Quindi, poi vabbè, Beppe Roncari scrive su Urania, Flavia anche, è in quel mondo. E in tanti altri. Comunque, sono soprattutto degli amici. Quindi il viaggio è stato molto molto piacevole, insieme a loro. Per poi arrivare lì e incontrare altri amici con i quali avevo prenotato il mio alloggio, diciamo, per la seconda volta. Se sono partito con gli scrittori della fantascienza e del fantasy, sono o pernotato con gli scrittori dell'orrore. Forse questa non è stata una delle idee più brillanti. Potrebbe essere una cosa che in un certo senso turba il sonno, ma no. Gli amici che avrei incontrato lì erano Lucio Besana, che forse conoscete come autore delle storie della serie Cremisi, nonché sceneggiatore cinematografico di un paio di successi nell'horror. Poi c'era naturalmente Gigi Luigi Musolino, qui è stato recensito più volte. Se amate l'horror in Italia, voi lo conoscete. È uno dei più grandi scrittori horror italiani, nonché un tipo molto simpatico. E poi, finalmente, ho avuto l'occasione, ma questo a metà giornata, di incontrare uno che è proprio un amico, ormai da diverso tempo, ma solo telefonico, perché ci parliamo regolarmente, soltanto a distanza, ormai da diversi anni. E finalmente ho potuto incontrare il carissimo Paolo Di Orazio, uno scrittore che non ha bisogno di presentazioni, per chi conosce la sua produzione, naturalmente, e che era lì anche per presentare un nuovo libro che vi mostrerò. Quindi, che tipo di evento è questo? Strani Mondi, nel caso non ci foste mai stati. È un evento che raccoglie alcune case editrici, non tantissime, che formano il, come dire, l'iceberg della letteratura fantastica in Italia. Non ci sono tutte, naturalmente. Dispiace, per esempio, che non partecipi mai a Independent Legions, che ha quel bellissimo catalogo di romanzi horror, ma vabbè, ha partecipato una volta, poi pare che non sia il suo ambiente. Ecco, mettiamola così. Quindi è stata l'occasione per, appena entrato, beh, è entrato dove? Perdonatemi se faccio confusione, ma sto andando a braccio, eh? Assolutamente a braccio. Intanto il posto si trova nella cosiddetta casa dei giochi, ok? È un, sembra un po' un circolo, dove si va a giocare giochi da tavola, giochi di ruolo, e che per l'occasione in questi weekend si trasforma nel suo ampio salone, nella casa di tanti stand, piccoli stand, medi stand, grandi no, di questi editori. Tra cui posso citare Hypnos, posso citare Zona 42, Agenzia Alcatraz, naturalmente vediamo un po' chi altri posso citare. Insomma, ce ne sono veramente tanti, AB Editore, quelli principali, quelli che amate. Io adesso non ho la lista nel cervello. Quello che posso dirvi è che il colpo d'occhio è questo, c'è una grande sala e questi banchi dove i libri sono schierati. Quali libri? Quelli che qui vorremmo leggere, che qui vorremmo leggere tutto il giorno, tutti i giorni, e che è impossibile, impossibile comprare nella loro vasta, numerosa, infinita presenza su questo pianeta. E allora si fa un po' una selezione. Ma il piacere di Strani Mondi è soprattutto quello di guardarsi in faccia. Diciamo che Strani Mondi realizza, come ha detto qualcuno, trasforma la bolla Facebook in cui molti di noi galleggiano, in realtà, ci porta nella realtà. E per cui si è l'occasione anche poi di conoscersi. Tant'è vero che appena ero entrato, un'amica di Facebook, che è anche scrittrice, mi ha subito visto da lontano. E non ero neanche entrato, non avevo ancora visto niente, che mi sono ritrovato seduto a un taulino all'esterno a prendere un caffè con lei e un altro conoscente amico. Ed è questa un po' la forza di Strani Mondi. Se siete veramente appassionati e leggete frequentemente questo tipo di opere. Il fatto che lì ci vediamo, ci vediamo, ci contiamo e usciamo un po' da questa sensazione di essere isolati, di essere degli outsider, perché vedere così tante persone in questa edizione è stata un po' la riprova che il movimento esiste, il movimento sta crescendo. Quale movimento? il movimento degli lettori di narrativa fantastica, che in certi eventi, eventi come questo, finalmente si possono considerare mainstream a loro volta. Perché non siamo una cacchio di setta di gente stramba. Siamo semplicemente dei lettori con dei gusti sofisticati, sofisticati, che non si accontentano di storie che ricalcano pedissequamente la realtà. A noi interessa una realtà più vasta, più poliedrica, che è quella del fantastico. Quindi sì, un'evasione dalla realtà, ma anche una prospettiva più ampia sulla realtà. Tanta gente in questa edizione che è, diciamo, un po' goduto del contraccolpo, se volete, del covid, anche se è goduto, è una brutta parola in questo caso. Nel senso che l'anno scorso eravamo ancora tutti, ci aggiravamo fra i banchetti, fra gli stand, ancora tutti con la mascherina. Di fatto praticamente non ci siamo visti, ci siamo visti solo a metà, da qui in su. Mentre invece quest'anno ci siamo visti completamente. Ed eravamo tanti, c'era proprio voglia di esserci. Questo non può che fare piacere. Quindi sono arrivato lì e ho incontrato anche gli amici, finalmente. Posso dire che alcuni autori siano veramente degli amici, ci si sente spesso. Mi riferisco a Lucio, mi riferisco a Gigi. Mi riferisco anche, soprattutto come vi ho detto, a Paolo, che finalmente ho incontrato quando è arrivato dopo pranzo, subito dopo pranzo, insieme a un'altra autrice. Se dovessi elencare tutti gli autori che ho incontrato, conosciuto, riscontrato, incontrato e riscontrato, veramente la lista sarebbe lunghissima. Quindi mi perdonino gli amici autori con cui ho scambiato quattro chiacchiere, ma che qui non ci trovo. Siete tantissimi, per fortuna, ed è stato proprio molto piacevole. Un'altra persona che è stato molto piacevole e che fa parte un po' della famiglia qui di Broken Stories, che ho potuto rivedere, anzi, che ho potuto vedere per la prima volta, è il mitico Alessandro Girola, che è uscito, come raramente accade, stando alle mie impressioni, per partecipare a una fiera. Non è il suo ambiente, non è quello che preferisce fare, ma c'era e finalmente ci siamo potuti anche un po' abbracciare, visto che il Covid ce lo permette. Poi sì, magari lì ci siamo tutti un po' contagiati, ma se Dio vuole la virulenza, quest'anno è un po'. Vabbè, facciamo gli scongiuri, ok? Ecco, questo è Strani Mondi, un posto dove in effetti sembra un po' di essere in un mercatino. Se voi non avete mai partecipato, vi invito a non aspettarvi, in vista della vostra futura adesione a questo evento, qualcosa nello stile dei saloni del libro come quello di Torino, che è chiaramente faraonico, è una cosa gigantesca, è un evento internazionale, dove veramente si vede che ci sono i piccioli, come direbbero in Sicilia. Ce ne sono tanti. C'è anche un approccio molto, se volete, insomma, chic. Mettiamolo così, un approccio chic. Gli editori lì si danno un certo tono, ok? La cosa bella di questi eventi, anzi di questo evento in uno specifico, è che qui il tono non se lo dà nessuno, tendenzialmente. Siamo tutti un po' carbonari e ci piace darci del tu. Ecco, questo è un evento dove gli editori ti danno del tu e se li conosci personalmente e se non li conosci personalmente. Ma te lo danno anche gli autori importanti, quelli che magari non ti saresti mai aspettato, di incrociare. Ora, una cosa che devo dirvi mi ha colpito parecchio e di cui sono molto riconoscente, molto, molto riconoscente, è che tanti di voi mi hanno salutato. Io sono rimasto veramente colpito. Questo canaluccio, Broken Stories, arriva a un po' di gente e questa gente, alcune di queste persone erano lì e siete stati molto, molto carini nel, insomma, nel dirmi qualcosa, nel salutarmi, ci siamo stretti la mano. È stato molto emozionante per me, perché ragazzi, come vedete qua, io faccio tutto da solo. One man band. E quindi a volte uno può anche avere l'impressione di parlare al vento. Sembra che non sia così, ok? Quindi, boh, va bene, grazie. È stato veramente fantastico che tanti di voi mi abbiano rivolto delle parole gentili. Grazie davvero. Questo è Strani Mondi. È un posto dove si ha un po' l'impressione di aggirarsi in un mercatino, sì, in un mercatino di libri, dove ne vedi tanto, ce ne sono di nuovi, ce ne sono di vecchi, ce ne sono di usati, c'era anche un banchetto degli usati. Ci sono editori che magari non avevo mai visto e che si sono un po' infilati, grazie alla presenza nel loro catalogo, di magari riedizioni di classici del fantastico, che non so, magari hanno ripubblicato qualcosa di Dickens, hanno ripubblicato qualcosa di Poe, hanno ripubblicato qualcosa di Jack London e quindi si ripresentano queste edizioni eleganti, anche se ho avuto l'impressione che in definitiva gli appassionati quei libri già ce li abbiano e quindi non si sia riscontrato un grandissimo successo. Ben diverso mi è sembrato l'interesse che si coagulava intorno alle nuove edizioni, intorno alle nuove uscite. Naturalmente non ho citato ancora neanche, mi scuseranno, quelli di Delos che sono tra gli organizzatori, sono i fondatori di questa iniziativa. Ovviamente lì intorno a questo banchetto della fantascienza c'era molto fermento, ecco sì. Tra l'altro io ho sempre l'impressione che lì si manifesti la nostra ripartizione un po' in tribù, che è una cosa pericolosa, bisognerebbe fare attenzione, perché se no finiamo come quelli del heavy metal, che si sono sparpagliati fra power metal, trash metal, death metal e magari poi ci sono le guerre intestine e alla fine chi compra death metal non compra power metal e tutti ne risentono. Ecco, questa è la cosa un po' che potrebbe succedere anche nel mondo del fantastico. Ah io leggo solo horror, ah io leggo soltanto fantascienza, ah no io leggo solo fantasy. E il fantastico, questa era una fiera del fantastico ed era proprio bella per questo. Perché i confini sarebbe proprio il caso di non metterli, poi chiaramente ognuno ha i suoi gusti, è evidente che poi andiamo tutti nella direzione indicata dalle nostre emozioni di lettori. Però cerchiamo di non dividerci tanto. In realtà quello che prevaleva secondo me era un senso di comunità, era un po' una cosa che si avvertiva. Anche quando poi a eventi come questi ci si reca a mangiare al bar, si prende un panino, si mangia un piatto di pasta, si va un po' tutti insieme, ma è anche un'altra occasione per studiarsi, guardarsi negli occhi. Fatemi pensare. Beh allora io vi posso dire che ho comprato dei libri, ma dato diciamo il rapporto che questo canale ha instaurato con diversi editori, ho anche avuto l'occasione di avere qualche omaggio. Ecco, quindi mi fa quasi sentire in colpa se vi devo dire la verità. Cioè io tu vai lì e che fai? Ti regalano i libri? Poi ci ho pensato sopra. No, non è solo un regalo, per quanto sia mosso anche da generosità. È forse una cosa che facendo tanti video, tante ore di video, posso sperare di essermi guadagnato, cioè di essermi guadagnato l'attenzione di alcuni editori. Insomma, comunque, senza stare a specificare chi regala che cosa, non è questo il punto, magari qualche sconto, eccetera. Vi voglio mostrare quello che mi sono portato a casa, perché poi l'emozione continua a casa, no? Tu continui a sfogliare questi libri. Dopo che ve li avrò mostrati, qualche altra riflessione su questo tipo di eventi, magari su ciò che funziona, su ciò che è bello e su ciò che funziona secondo me un po' meno, che potremmo, ma non so, potrebbe essere l'occasione per rifletterci sopra e anche per porci delle domande, no? Su chi vogliamo essere in questo mondo dell'editoria di genere. Allora, vi posso subito dire che è uscito il nuovo romanzo di Paolo di Orazio, che era lì, appunto, come vi dicevo, no? Eccolo qui, il diario elettrico. Paolo di Orazio Sicimente per la prima volta, a suo dire, con la fantascienza. A modo suo, naturalmente, assolutamente a modo suo. Lo sto leggendo, poi vi farò la recensione. Se siete interessati alla produzione di questo scrittore, è totalmente atipico, che è veramente uno che vive del suo stile, del suo mondo, del suo immaginario. E sempre più penso, leggendolo, che lui sia una specie di Dario Argento della letteratura italiana. Non quello senile, assolutamente criticabile, diciamo, nelle sue messe in scena, nelle sceneggiature, nella direzione degli attori, no? Ma per l'immaginario, coerente, per il fatto che comunque, quando leggi Paolo di Orazio, tu vai nel mondo di Paolo di Orazio. È riconoscibilissimo, c'è un'impronta. È uscito per Kipol, officina libraria, e ne parleremo. Poi cos'altro mi sono portato a casa. Beh, sono stato a visitare lo stand di AB Editore, che è un editore, anche questo, completamente, che fa regola a parte, crea un mondo a parte. Come? Stampando delle storie di autori defunti, fondamentalmente. Se ho capito bene, quindi anche autori le cui opere non sono più coperte da diritti d'autore, quindi costa meno pubblicarli, non bisogna chiedere il permesso, eccetera, eccetera. Però, 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 con un taglio, con una prospettiva che è molto interessante. Perché è interessante questa casa editrice? Perché è proprio casa editrice. Cioè, quello che esce come AB Editore è di AB Editore. Lo vedi da come si presenta. Tu compri libri di AB Editore perché sono di AB Editore. Non perché l'ha scritto un certo autore, ma perché l'editore lo ha, ha trattato la materia a modo suo. Cosa intendo dire? Vi faccio vedere alcuni dei libri, ok? Guardate che roba. Non disturbare, sono dei morti. Questa è tutto, tutta una roba dorata, dorata, ma veramente. Cioè, è una roba... Poi dentro le loro grafiche, sempre un po' sinistre, sempre... Ecco qua. Guardate che roba. Sono... Come si chiamano questo tipo di illustrazioni? Adesso mi sfugge... Non so, ma comunque c'è sempre questo senso di antico, impaginato, però in modo molto moderno. Anche se poi i font sono, beh, sono irregolari. Anche c'è una ricerca sulla grafica, sul font, sull'impaginazione, sui grafismi, che è straordinaria. straordinaria. Ma se conoscete un minimo quest'editore lo sapete. Come sapete che hanno pubblicato anche questo, per esempio. Sepolcro. Ma guardate... No, ma guardate che roba. Cioè, questa è una lapide. È una copertina trattino lapide. Anche qui, ci sono autori del passato, tutti trattati... Ma... Cioè, dentro... Dentro è una continua sorpresa. Questo è il punto, no? È una continua sorpresa grafica. E io devo dire che ho parlato con The Man. Cioè, chi è che realizza queste grafiche? Guardate questo. Questo è appena uscito. Resurgir. Tac. Mi spiego? Storie di vampiri. Mi spiego. È incredibile. È incredibile quello che fanno. Mi chiedo se sia tutto qui. Probabilmente sto perdendo di vista altre loro pubblicazioni. C'era anche una bustina. Vabbè, poi si sa. Ah, sì. Racconti imbustati. Eccola qua. Cioè, mi spiego. Qui abbiamo Capitano Omicidio di Charles Dickens. C'è un racconto di Virginia Woolf. Jean Cocteau. E un racconto di Lovecraft. Nella bustina. Capite? Questo è essere editori che firmano. Veramente firmano. Mettono l'impronta digitale su tutto ciò che fanno. E per me hanno... Veramente... A prescindere dai contenuti che poi andremo a trattare, ma sono anche opere molto interessanti. Questo merita assolutamente la massima considerazione. Ok? L'editore si fa. Si può fare anche così. Ma come si può fare anche così? A patto che si abbia... Che si abbia un grafico, un direttore creativo... Eh, ragazzi. Quei controcazzi. Scusate la rima. Non tanto la parolaccia, ma la rima. E allora, chi è questo tizio? Io l'ho conosciuto. Finalmente. Si chiama Lorenzo Incarbone. E un grafico. Si occupa della direzione creativa. Se vi adorate queste edizioni, lo dovete. Ha la sua straordinaria creatività. Un tizio anche piuttosto giovane, che però ha veramente un occhio, un gusto, che fa tutta la differenza. Questo messaggio agli editori che usano invece le immagini comprate su internet per fare copertine assolutamente anonime e senza gusto. Imparate. Ah, beh. Poi c'erano naturalmente quelli di Providence Press, che non mancano mai. Sapete, loro hanno in catalogo molte cose di Robert E. Howard. Hanno pubblicato la biografia di Joshi, di Howard Phillips Lovecraft, scusatemi, in due volumi. Quella non ce l'ho. È un'opera che, sì, è molto interessante, ma io non sono uno studioso così certosino di Lovecraft. Però mi interessa molto quello che scrive Robert E. Howard e non soltanto Conan. Per cui mi sono proprio dilettato, mi sono compiaciuto, di prendere, di avere Buckner J. Grimes, storia di Il Tornado del Texas, quindi storia western. Ricordiamo che Howard era texano. E poi Steve Costigan, storia di un marinaio che ama molto fare a cazzotti. E a quanto pare sono storie molto divertenti che non ho ancora letto, ma comiche, quasi comiche, perché questo tizio è proprio un piccio, è un deficiente che fa botte con tutti. Passiamo a Agenzia Alcatraz. Ho comprato, ho preso del materiale da Agenzia Alcatraz. Vi segnalo l'uscita di questa ultima pubblicazione nella collana Bizarre, che io qua ho recensito diverse volte. Come al solito sono libri che si presentano benissimo. Anche questi, grafica bellissima, presa dall'originale della collezione Fantastique, Marabou Fantastique degli anni 60-70. Bellissimo. Thomas Owen è un autore da tenere assolutamente in considerazione. Questi sono racconti, ma poi avremo occasione di parlarne. La stessa casa editrice ha pubblicato tempo fa, ma mai come oggi questo libro è, diciamo, attuale. Questa, direi che si presenta benissimissimo. Biografia definitiva di Tolkien, scritta da Raymond Edwards, che è un accademico di Oxford, dove insegnava, come sapete, anche Tolkien. È un filologo a sua volta. Insomma, ci racconta la vita di Tolkien in un tomo che, sì, sì, si prospetta proprio definitivo. Fra l'altro, la cosa bella è che acquistandolo, se lo acquistate poi sul loro sito direttamente, loro vi mandano anche una borsa di tela che riproduce esattamente questa copertina. Vediamo se riesco a recuperarvela un secondo. Fermi lì. No, non so dove l'ho messa, porca miseria. Ci sarà occasione di rimostrarvela. Molto, molto bella. Quelli di Agenzia Alcatraz pubblicano anche libri a tema musica, musica rock in particolare. E io mi sono proprio sdelenquito quando ho visto questo libro e l'ho voluto proprio avere. Ve lo mostro. Magari in futuro poi ve lo presenterò anche. Lo sto leggendo. Voilà. E vi metto al 50 anni di musica dura di Stefano Cerati. Io lo so che siete perlopiù metallari. Voi che seguite Broken Stories. Lo so. Magari ne riparliamo. Poi è uscito, e dovevo assolutamente averlo per edizioni Arcoiris, questa collezione di racconti che sono stati tradotti da Lucio Besana. Grand Guignol. Grand Guignol. Che cos'è il Grand Guignol? Forse lo sapete. Quel teatro che nella bella époque voleva un po' epatele bourgeois, sconvolgere i borghesi. Come? Con storie, con rappresentazioni che avevano un tema, diciamo, fondamentalmente ordinario, quindi storie di interni borghesi, ma che poi si risolvevano in omicidi, massacri, decapitazioni, e scene splatter a go-go, quindi sangue, effetti speciali, effetti speciali dell'epoca naturalmente, no? Ma comunque, sbudellamenti, era, e questo è stato proprio l'antesignano dello splatter, come genere. E il libro si presenta molto bene anche perché è ricco di illustrazioni, le mostre, ecco qua, di pagine gustosamente dark, ma anche d'antan, un dark d'antan. Questo sarà oggetto, naturalmente, di recensioni qui su Broken Stories. Siete ancora qui con me? Il video sta durando parecchio, ma insomma, era per farvi sapere un po' come è andata. E infine mi sono procurato, con grande gioia, questo, che è uscito per edizioni Hypnos, La Montagna Morta della Vita. Titolo stranissimo, stranissimo. Con la postfazione di Michele Mari, la copertina, come sempre, di... come si chiama? È uno scrittore, ragazzi, mi sfugge al momento il suo nome. Ivo Torello, ecco qua, Ivo Torello. C'erano anche altre uscite. C'era, per Hypnos, è uscita una novella di Pria Sharma, che era lì, ospite, venuta dall'Inghilterra. Un altro autore internazionale che era venuto da New York è Sam Miller, che ha pubblicato una raccolta di racconti di fantascienza, fantasy, horror, un mix, un melange, con edizioni Zona 42. Tra l'altro è stata molto interessante la presentazione di Sam Miller, al quale ho rivolto una domanda. E che forse riguarda anche noi, noi qui di Broken Stories. È stato un tema dibattuto qui una volta e ancora ogni tanto mi ronza nel cervello. Allora, Sam Miller, giovane scrittore new yorkese, ha espresso la sua fiducia nell'attivismo, nella partecipazione politica, sia nella vita che anche nella scrittura. È un ragazzo molto in gamba. E quindi ha anche dichiarato che lui scrive per esprimere dei concetti, per sostenere un certo movimento, ma anche un certo pensiero, orientato allo sviluppo, all'evoluzione della società, contro tutti i guasti di cui siamo sempre più testimoni negli ultimi tempi. La mia domanda quindi è stata, visto che mi sembrava uno scrittore costruttivo, la mia domanda è stata, ma cosa ne pensi quindi di quella letteratura che invece è cupa, se volete emotivamente debilitante, che affosse il lettore invece di elevarlo? Perché, ecco, un dubbio di natura morale su cose che io amo molto leggere, no? Ma alcuni autori sono criticati, poco, eh, alcuni, proprio per questo loro quasi nichilismo, per questi contenuti nichilisti. La risposta mi è piaciuta molto. Me la porto a casa, preziosamente. La risposta è, io preferisco scrivere storie che hanno un contenuto costruttivo, propositivo, però non posso negare il valore dell'altra faccia della medaglia. Perché a volte le storie che invece ti buttano giù, ti deprimono, che deprimono me, per alcuni possono essere un motore di, invece di indignazione, di, possono risultare costruttive. Cioè, nel momento stesso in cui ti buttano giù, tu, che sei diverso da me, potresti avere una reazione diversa. Cioè, potresti avere la reazione opposta alla mia. Quindi giudicare un'opera perché è eccessivamente nichilista, eccessivamente deprimente, è di fatto, come sempre, un'operazione che rivela qualcosa su chi la esprime, più che sui contenuti dell'opera stessa e sulla sua validità. Questo è stato molto interessante. Così come altre presentazioni, presentazioni di piccole case editrici, FQ, che ha presentato un romanzo fantasy, di cui poi parleremo, un'autrice notevolissima. Probabilmente una scoperta. Spero di, presto di parlarvene, di sostenerla. Siccome ho capito, questa scrittrice è così brava, qui bisogna sostenerla. Ho avuto modo di ascoltare la presentazione di Luca Terenzi, Terenzi, come si chiama, ragazzi? Scusatemi. Luca Terenzi? Aspetta che faccio un controllo. Oh, Cristo. Vi pare Terenzi. Luca Terenzi. Luca, Luca. Perdonami, Luca. Ma porca miseria. Luca. Terenzi. Lo sapevo che era giusto, però un attimo di confusione. Luca Terenzi, che è uno scrittore fantasy, ha fatto una bellissima presentazione, direi più che altro, una lezione sulla magia sia da una prospettiva storica sia da una prospettiva di letteratura fantasy. E ho scoperto un grande speaker, un grande oratore, che è una persona decisamente ed eccentricamente erudita. Ma questo è un tizio particolare, perché oltre ad essere un bravo scrittore, che pubblica congiunti, ha anche successo, se ho capito bene, lui si interessa proprio nella vita reale, di magia, di sciamanesimo, da una prospettiva che suppongo sia comunque, insomma, come dire, contemporanea. Ma è un bel tipo, eccentrico, no? Con i capelli lunghi, un po' tutto scarmigliato, tutto arruffato. E quando parla, oh, ti avvince. A parte che secondo me, non lo so, dovrebbe fare il doppiatore, perché ha una voce eccezionale. Mi sembrava di ascoltare Aragorn, il Signore degli Anelli. Bravissimo. Così, come è stato interessante ascoltare la presentazione del libro sul Distopia Utopia e sul Solar Punk, editi da Delos, alla presenza di Bruce Sterling, il grande scrittore americano, Cyberpunk, che adesso ha più di 70 anni, tra l'altro, però sempre molto in gamba, sempre con sta cazzo di camicia da texano, perché lui viene da, se non sbaglio, lui viene da Austin e adesso abita a Torino, ormai da molti anni, qua vicino, ok? Quindi, ed è chiaramente una persona con un bel cervello. Ha detto veramente delle cose molto interessanti. Queste presentazioni sono state condotte bene, devo dire, io non amo le presentazioni, però queste sono state condotte bene. Qual è stata la prima qualità di queste presentazioni? che duravano poco. Sì, erano, i minuti erano contati e c'erano dei, come dire, dei portieri fuori della porta che ogni tanto entravano e segnalavano che mancavano 10 minuti, 5 minuti, avete finito, fuori dalle balle. Perfetto. Questo costingeva tutti a dare il meglio di sé in mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo. Questo è un modo intelligente di fare le presentazioni. Così gli autori non ci rompono le balle con le loro elucubrazioni, il loro ego e il loro narcisismo. A quanto pare qualcuno mi ha battezzato, ribattezzato l'ammazza scrittori lì dentro per queste mie osservazioni. Lo trovo tutto molto, molto divertente, ma io non sono un ammazza scrittori. Ora, se siete arrivati fin qui è perché proprio vi piace sentirmi parlare. Non so perché, ma, insomma, a me piace raccontarvi senz'altro quello che ho visto, quello che ho provato. Quello che ho provato è anche stato proprio, insomma, un senso di, veramente di comunità. Certo, in particolare quando con gli amici Besana, Di Orazio e Musolino ci siamo poi recati, siamo andati a prendere alloggio, no? Questo appartamento che abbiamo affittato per una notte. è stata un po' dura arrivarci, a un certo punto abbiamo temuto di dormire all'addiaccio sotto la pioggia di Milano perché non riuscivamo a trovare il modo di entrare. Vabbè, l'abbiamo risolta. Vi posso solo dire, ecco, per gli appassionati dell'orrore, questo è proprio un dettaglio molto orrido, che almeno due di questo gruppo di bravissimi scrittori di notte russano mostruosamente e quindi li abbiamo un po' esiliati in punti strategici della casa. Vabbè, questo era un po' per sorridere. Ora, qualcuno potrebbe pensare ma come? Tu sei amico di questi scrittori e ma allora come fai a fare delle recensioni equilibrate, spassionate, neutrali? E effettivamente è una cosa che è lecito domandarsi e quindi io mi propongo assolutamente di essere doppiamente stronzo con le opere di questi amici perché altrimenti quindi siate avvisati non ve ne farò non ve ne farò scappare una. Attenzione a quello che scrivete. Un'altra cosa che succede che succede quando frequenti questi posti è notare che c'è tanta gente che scrive. Tantissima. Tutti. Scrivono. Allora, questa è un po' forse la problematica principale di un evento del genere. Se poi è una problematica. Questo non è solo un evento. Magari è nato per attirare nuovi lettori e sicuramente ci riesce. E bisogna continuare su questa strada. Bisogna bisogna far vedere che esistiamo bisogna far vedere che siamo normali. Anche un po' meglio del normale. D'altro canto non è innegabile che tu che tutti lì dentro e anche i loro amici come dice Ozzy Osbourne erano anche lì perché sono scrittori. Perché hanno pubblicato quella cosina perché la vogliono pubblicare perché aspirano a pubblicarlo perché hanno hanno all'attivo una decina di romanzi già pubblicati quindi quelli sono proprio gli autori autoroni e tutti però li vogliono scrivere tutti aspirano a stampare il loro romanzo. Non c'è niente di male in questo bisogna solo sapere che se non riusciamo se non riusciamo a allargare i confini di diciamo della platea dei lettori di fantasy di fantascienza weird e horror oltre il settore diciamo l'ambito del aspirazionale del lo voglio fare anch'io i confini saranno sempre limitati e anche questo è un po' un difetto non è un difetto è una circostanza di un evento del genere siamo ancora pochi anche se era bello gremito se c'erano delle bellissime case editrici c'è da dire che questi editori hanno veramente il cuore cioè o lo fanno perché amano questa roba qui e si vede e questo è fantastico però ecco bisogna dire che dobbiamo fare in modo di allargare lo spettro dei lettori a chi cacchio non si considera uno scrittore dove sono i lettori puri dove sono sono una razza in via di estinzione e vabbè altra cosa che mi sento di dire su che mi è piaciuta un po' meno perché sono rompicoglioni a fronte di un evento che è decisamente positivo ecco che cos'è che mi piace un po' meno ma probabilmente col tempo questa cosa la superiamo il fatto che noi ci incontriamo nella casa dei giochi che è un bel posto ma seguitemi un secondo come mai noi siamo circondati quando parliamo di questi libri di questi autori quando parliamo di opere importanti perché queste sono opere importanti porca di quella vacca come mai noi non ce la tiriamo come quelli del salone del libro come mai siamo circondati da poster di manga dell'accidente yugioh di giochi da tavola di fumetti vari ma io non dico che che non abbiano dignità dico solo che c'è qualcosa che mi stona cioè tiriamocela un pochino tiriamocela un pochino cioè riconosciamo noi stessi che stiamo trattando opere importanti che di fatto cioè se tu pubblichi questo non c'entra niente questo con yugioh non c'entra niente con i robottoni giapponesi non c'entra un cazzo con quella roba lì non c'entra con quell'immaginario cioè sì siamo tutti siete tutti nerd io sono un post nerd e chi segue questo canale anche ok però liberiamoci da questi queste vestigi adolescenziali diventiamo post nerd io amerei che tutti quanti si fossero se volete questa è la mia proposta tutti un po' più post nerd cioè siamo dei fighi dimostriamolo non c'è bisogno non dobbiamo appoggiarci alle stampelle di questo immaginario che è fighissimo i fumetti i manga i videogiochi i giochi da tavola è fighissimo ci appartengono sì ma lì andiamo perché parliamo di letteratura di narrativa di un altro tipo di creatività e quando vai alle presentazioni di certi autori leggi appunto pria sharma leggi sam miller leggi bruce sterling ma anche i nostri per carità però ecco quando vai alla presentazione di quelli che vengono da fuori ti rendi conto che loro ti stanno parlando di cultura sono molto impegnati nel tessuto sociale culturale attraverso le loro opere e non gli passerebbe probabilmente non lo so non gli passerebbe per la mente di avere dietro di sé un poster di Yu-Gi-Oh non necessariamente lo so che questa è un'opinione impopolare vi piacciono i manga io lo so lo capisco non dispiacciono neanche a me ma quando parliamo di gran guignol noi dobbiamo parlare della bella epoca dobbiamo parlare di quell'epoca che ha preceduto la prima guerra mondiale dobbiamo parlare del perché questi turbamenti erano presenti nel tessuto sociale e culturale dell'epoca questo a me interessa come post nerd poi i giochi di carte di Yu-Gi-Oh van benissimo ma vabbè avete capito volevo rompere i coglioni ok però l'evento mi ha molto divertito e se potete al prossimo anno veniteci anche voi se non ci siete venuti stipiamo questa casa dei giochi in modo tale che prossimamente ci servirà un palazzetto dello sport e dopo il palazzetto dello sport ci servirà tutto il centro città quale città non lo so ma se penso a Luca Comics che è concomitante insomma penso al fatto che io quando ci andavo da ragazzino ci sono andato da ragazzino entravo nel palazzetto dello sport ed era tutto lì tutto lì chiuso tutto lì e adesso Luca Comics è un evento gigantesco gigantesco quindi si può fare e poi sono tornato a casa io ho preso i miei libri li ho appoggiati sul comodino e sto continuando a sfogliarli a carezzarli ho appeso di quadretti che ho comprato lì da Mosca Bianca Edizioni Mosca Basca non è male come nome alternativo ma anche come Lapsus e questo è quanto lo so vi ho già rotto bellamente le palle un video troppo lungo ma insomma volevo riprendere un po' anche i contatti con voi sto facendo un po' meno video perché come vedete mi sto riorganizzando c'è sto cacchio di microfono qui sospeso però almeno mi permette di stare bello comodo ah webcam nuova non so se avete notato che la qualità dell'immagine ha avuto un miglioramento quindi lo devo anche alle vostre donazioni ai vostri al vostro sostegno e anche la mia voglia di buttare via i soldi ciao a tutti da la via trisi di broken stories statemi molto ma molto ma molto bene ciao